mani spingono, le mani spingono verso l'alto e verso di là e cercare di creare uno spazio, questa è la migliore perché vai in giro la testa verso l'alto, quindi non riesce a opporre molta resistenza quindi se io facessi di qua, con lui, lo facessi in questo modo qua, non riesci a mettere più peso quindi io sto qua con lui, lo tiro verso l'alto, in posizione, pronto per la spagna ok, da qua andate a cercare il braccio, il gruppo, è importante questo, salvo, tiro verso l'alto e comincio a camminare con la gamba ok, lo vedete, l'abbiamo visto, quando mi schiazza, ok, sempre controllo, stingendo qua, lo vado a cercare o ad esgrimare, ok, stesso discorso, mi metto in posizione lateralmente, ok, da qua, vado a cercare il bolso, con il gomme, su cui sta appoggiato, ok, chiudo e stesso lavoro mi metto in piccola parentesi che se lui ha il braccio bello piazzato qua, non riesco a portarlo, eh mi avvicino con il gomito, col sedere e stesso discorso, giù, tiro e traccio, ok, poi abbiamo visto il cambio della presa, che invece di stare qua, non si potrebbe essere giusto, faccio uno, due, controllo, giro, calcio e il braccio con il braccio, ok, ok, portiamo questo, ah, scusa, c'era un piede, dico, abbiamo visto che il molello che sto qua con lui, ok, mi sono provato ad andare a spargli, sto così, costura, qua, magari mi riesco a distrappare la presa, ok, sto qua, d'accordo, evidentemente qui, vedi, porto il braccio, chiudo, c'è questo, punto, oh, senso di scuola, trans, qua abbiamo parlato di quella cosa, che se io sto qua con lui, ok, da qua già sta in posizione per farsi la spagna, lo voglio io, però io non sto seduto, non sto sdraiato, quindi proprio il gomito, cintura, oh, giocchi sempre, andiamoci attaccato, gioco sempre, io ho cominciato a puntare verso l'esterno, ok, lo scaccio, mi vado a sedere, ok, quello che vado a fare è caricarlo, su di me, quando andavo a spargli, quando andavo a spargli, lo perdo, quindi io quando andavo a essere pronto, se lui nel caso torna, quando andavo a spargli, quando andavo a spargli, quando andavo a spargli, quando andavo a spargli, io lo riparico verso l'esterno e rasco, ok, nel caso in cui lui, se qua con lui, se lo andavo a spargli, se lo andavo a spargli, qua, ora, mi sposto già, mi sono sicuro, lui qua, adesso, lo sto portando, se le braccia, se lo vado a caspare, se lui si alza dritto, chiuso, vi dico come sto, il stesso discorso, esco, carico, quindi qua, carico, e qui, qua, ok, stiamo? Sì. Grazie.